Italmatch Chemical è un gruppo internazionale e specializzato nella chimica di specialità in additivi per lubrificanti, trattamento acque, ritardanti di fiamma, segmento dell'oil and gas e personal care. Impiega mille persone attraverso 19 stabilimenti, per questo motivo necessita di importanti strumenti per gestire i flussi organizzativi. Per il progetto di migrazione da ICC a SAP S4ANA abbiamo pensato che il padre storico di questo progetto potesse essere Altea. Ci aveva già portati a SAP nel 2014 e che adesso, conoscendo la nostra realtà, potesse essere il partner migliore. Abbiamo fatto un progetto molto sfidante. Siamo andati avanti, ci siamo riusciti perché il partner ci ha supportato, ha messo in campo tutti i consulenti possibili e non ci siamo mai sentiti lasciati al nostro destino, ma sempre supportati in tutto e ci siamo riusciti. La SAP S4ANA ci permette l'introduzione e l'integrazione dai sistemi esterni, che per noi è importantissimo perché abbiamo ancora tante altre società da integrare, ma questo ci permette di farlo con molta più calma. SAP S4ANA è stato un partner fondamentale per noi, per le acquisizioni più importanti. Consente al potenziale acquirente di attestare la reliability e la sicurezza di tutto il dato che circola in azienda. La reportistica è molto più efficiente. Infatti adesso utilizziamo SAP Analytics e abbiamo dei risultati, dei riscontri immediati. SAP S4ANA ti permette questo. Abbiamo questa integrazione in cloud, ci integra facilmente gli altri pacchetti. ItalMatch è stata avvantaggiata dall'introduzione di SAP S4ANA in tanti ambiti, dalle certificazioni di qualità alle certificazioni amministrative. Riusciamo a determinare la profitability del cliente e del prodotto risalendo al valore della materia prima del plant originario. Ha aiutato nella mia funzione di controllo di gestione, è stato proprio quello di garantirmi delle soluzioni che nessun altro gestionale mi può offrire. L'idea è quella di avere un unico polo che catturi tutte le esigenze e le gestisce integralmente. ItalMatch dovrà crescere come è cresciuta in passato, dovrà raccogliere nuove sfide e questo per me è impensabile senza SAP S4ANA. Al prossimo episodio